Grave una donna rimasta ferita in un incidente avvenuto stamane sulla Romea tra Campagna Luppia e Lughetto. Si sono scontrati un camion e un'automobile e nell'impatto i due mezzi sono rotolati giù per l'argine. La squadra dei pompieri, intervenuta sul posto, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo dell'utilitaria. La donna è stata presa in cura da personale del suo M118 per essere trasportata all'ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Sulla zona era in corso una fitta nevicata.